Allora, per gentile concessione del team di Max, vi facciamo vedere qual è il sistema assistito di partenza della Citroen C4. Innanzitutto, una volta schierati sullo start, si tira il freno a mano e lo si blocca in posizione, di modo che la macchina rimane ferma. Si schiaccia la frizione, con il pad si inserisce la prima marcia, dopodiché si rilascia la frizione, la macchina sta ferma, si aziona con questo pulsante il bang, il gas va giù fino in fondo, la macchina non si muove, aumenta leggermente il numero di giri, ma non eccessivamente. Quando siamo allo zero, rilasciamo il freno a mano e la macchina parte automaticamente, dopodiché, proseguendo la marcia, azioneremo seconda, terza, quarta e quinta marcia con il pad.